La pesca è ripartita a largo di Termoli da pochi giorni dopo il fermo biologico, non senza difficoltà. Ed è ripartita anche l'attività del mercato ittico con una novità assoluta, un nuovo sistema d'asta online. Cellulari e app alla mano, i commercianti ittici sono stati dotati degli smartphone attraverso cui partecipare all'acquisto delle partite di pescato. Sicuramente è un processo innovativo che guarda avanti, non senza però qualche difficoltà. Il mercato è stato ammodernato per quanto riguarda esclusivamente la vendita e per quanto riguarda esclusivamente le facilitazioni ai commercianti. Avevamo chiesto tre cose, c'era una chiusura della parte dove stava il pesce degli imprenditori ittici, lo spostamento di un motore che riscaldava l'ambiente e queste due cose, non sono state fatte solo le due, speriamo nei prossimi fondi. Il comparto ittico vive un momento difficile, pescatori e armatori sono sempre in fermento, i problemi sono sempre gli stessi, dal caro gasolio all'attesa degli indennizi legati agli stop precedenti. Un copione che tristemente si ripete ogni anno, anzi sempre peggio. Siamo quasi in stato di agitazione e adesso vediamo come va la vendita perché purtroppo ancora nessuno di noi ha riuscito a capire completamente come sono i prezzi. C'è sempre qualche problematica, i carocarburanti sono tre fermi che non ci pagano e aiuti che ci hanno promesso che ancora ci danno, insomma ci stanno diverse difficoltà. Quando ritorniamo in mare abbiamo noi da San Benedetto a Termoli che sono già 15-20 giorni che immediatamente a fianco ci pescano, quindi diciamo che i mercati sono già saturi quando noi torniamo per mare, non abbiamo ancora capito perché questo pezzo di mare da San Benedetto a Termoli fa un fermo diverso da quelli di sopra e da quelli di sotto.